sono qua per dirvi che dal 7 maggio su rai cinema channel sarà online nella cinquina dei corti selezionati per i davidi donatello e che faccio parte di questo progetto meraviglioso che si chiama adotta un corto e io ho adottato un corto che è il nostro tempo devo ringraziare rai cinema per questa splendida iniziativa che prende il nome adotta un corto io sono chiamato come testimonial per mia sorella i registi sanno che senza conflitto non c'è storia e cristina picchi nel suo unfolded corto che io ho adottato fa questo molto bene io vi consiglio di guardare questo corto insieme agli altri io ho adottato uno di questi cortometraggi che si intitola baradar l'ho adottato con estremo piacere io ho adottato un cortometraggio si intitola inverno una bellissima storia buona visione a tutti e buon cinema italiano